Più salari e più diritti. No, non parlo per me. Non parlo soltanto per me. Provo a parlare e ho già firmato l'appello per i tanti e le tante che non hanno voce. In questi giorni ricorre l'anniversario della rivolta di Rosarno, dei braccianti immigrati che protestarono perché avevano salari bassissimi, vivevano in catapecchie e in più subivano anche gli attacchi dei razzisti. Ma il mondo di gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici migranti non è affatto cambiato. Quando hanno la fortuna di avere contratti regolari prendono il 30% in meno dei lavoratori autoctoni. Quando non hanno, e nella maggior parte dei casi, contratti regolari i loro salari sono infinitesimali rispetto a quelli di un cittadino o cittadina italiana ed in più sanno perfettamente che da un momento all'altro potrebbero perdere il lavoro. Solo questa a me sembra una ragione valida per dire firmate. I diritti loro sono anche i diritti nostri. Grazie a tutti.